gildare sei proprio una reggina oggi ti è guardate un po un bel saluto lo voglio fare a Giacomo che è un ragazzino che mi ha fatto questa bella coroncina e me l'ha portata oggi me l'ha anche filmato nostro amichetto Giacomo ciao Giacomo un bacione ciao Giacomo bacione grande e un saluto anche a papà Gianmarco ecco qua e adesso iniziamo grazie ancora Giacomo sei il tesoro testana una favola gildare troppo bella troppo bella guarda e allora adesso facciamo una cosettina rustica con la pasta sfoglia poi mettiamo delle sottilette così oggi ci vuole una rinfrescata c'è voglio di qua eh certo le tutte e di più voglio dire no ecco qua vedete ecco fatto se ripulisce il frigo no dopo ecco qua ecco qua già c'ho l'acquolina io qua mamma mia ma come si fa come si fa allora adesso ecco siccome mi era rimasto il salame e che faccio e che faccio mette il salamino salame per una settimana no no mi dispiace allora per dentro o sollevamo subito ecco non sollevamo più guardate la quanta è bella con sta corona vero ti ha fatto una corona che è stupenda proprio guarda proprio bella ecco qua guardate qua il sole ecco qua ecco no voglio far così va ma viene il bello ecco facciamo un bel rotolino ecco qua semplice 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 e vai e mo che gli volemo di qua niente che gli volemo di qua adesso io tracchete tracchete lo porziono vedete gli faccio ste intacchette così lo porziono e poi lo cuocio intero non lo cuocio ecco qua ecco qua vedete che faccio beh cotto intero è pure più carino cocelo intero intero no sì 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 ma battiamo un uovo e ce lo prendiamo sopra va bene carina 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 eh se mi uscite per l'ova e se siamo scordate no no ma c'è l'ova non ci posso crede eh c'è l'ova eccole eh che qua ci posso crede ma ti pare che l'ova va qua faccio l'ovetto adesso ecco fatto la passatina dopo ora ci mettiamo un po' d'olio ottima idea gildare certo ottima ottima idea proprio guarda così ci vuole un pochetto d'olio ecco qua ecco fatto e mo tagliamo qua pronto per infornare gildare adesso lo vado a metto al forno il forno sta a 180 l'abbasso a 160 e una mezz'oretta 20 minuti mezz'ora va bene vai ad infornare gildarella vai ah ecco te lo ti è mamma mia guardate che bello che profumo che c'è sta che spettacolo guardate mamma mia tanto perché da oggi iniziamo la dieta guardate un po' che robetta qua va bene profumo devo assaggiare penso di sì no dai assaggia facci vedere un po' com'è gildarella è buono eh che spettacolo giraci un po' qua facci vedere un po' com'è guardate un po' che meraviglia brava brava gildarella anche oggi ci ha presa tutti pagola va gildarella ragazzi è buonissimo eh posso mangiare tutto gildarella va allora adesso dice un po' io devo salutare due persone mio fratello e mia cognata mi zio e mia zia ciao zi non mi saluti mai ecco ciao un bacio a tutte e due e adesso un bacio grande a tutti ciao belli dalla cucina di gilda sempre dal cuore grazie giacomo te sta in amore qua coroncina proprio bella gildarella troppo bella bacioni grandi e mi raccomando seguiteci sulla cucina di gilda guardate che bontà guardate un po' gildare e mica può fare così te e un bacione grande a tutti belli e bellissimi ciao 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 mua